Buongiorno a tutti, mi dicono che possiamo iniziare questo nuovo giornato organizzato da Gas da France UES da un tema che devo dire è molto update, perché Energy Community e soprattutto il sottotitolo mi sembra molto come dire al passo coi tempi, c'è un nuovo paradigma per l'innovazione energetica del nostro paese. Di salto di paradigma mi sembra che in questi giorni ne stiamo sentendo parecchi, c'è quello politico, c'è quello delle riforme, c'è quello anche mi pare di una classe dirigente che si è improvvisamente rinnovata, almeno dal punto di vista anagrafico dell'età, in maniera clamorosa per un paese che è sempre stato accusato di essere un paese, permettetemi il termine, di vecchioni, cioè non essere stato un paese per giovani, a lungo tempo ora improvvisamente diventa un paese che non solo vuole fare una serie di riforme, una al mese molto velocemente, ma anche da un punto di vista tecnologico, e oggi cercheremo di spiegarlo, vuole essere all'avanguardia in Europa. Per cui io direi subito che anche per raccontare quello che è accaduto nel settore dell'energia, io chiamerei subito Aldo Chiarini, amministratore delegato di Gas de France UES Energia Italia, che credo ci racconti di questa tempesta perfetta che è avvenuta nel settore dell'energia, come superarla e le nuove proposte. Comunicazione tecnica che mi chiedono di dare, per le cuffie, per la traduzione, canale 1 in italiano, canale 2 in inglese. Prego. Bene, grazie, buongiorno e benvenuti a tutti a questo forum permanente sull'innovazione che abbiamo costituito insieme ad Ambrosetti e al Politecnico di Milano. È la seconda volta che ci vediamo e ancora vi ringrazio tutti di essere qua numerosi. Dunque effettivamente per quanto riguarda l'energia in Europa sono successe tantissime cose tutte insieme. Pensiamo allo shale gas americano che è arrivato ad essere disponibile in grandi quantità e consentito la ripresa economica americana, ma che ci manda il carbone non più utilizzato negli Stati Uniti in Europa a prezzi bassissimi. Pensiamo al boom delle rinnovabili che sono state incentivate moltissimo in diversi paesi, tra i quali Italia, Germania e Spagna in modo particolare. Pensiamo all'incidente nucleare di Fukushima che ha creato degli spread geografici sul GNL e pensiamo naturalmente al calo dei consumi che c'è stato con la crisi economica. Tutto questo ha creato quella che noi chiamiamo la tempesta perfetta dell'energia in Europa. I cittadini europei pagano l'energia più caro rispetto agli altri posti del mondo, le utility perdono soldi e la sicurezza del sistema a rischio. Quindi ci sono state una serie di iniziative per sensibilizzare le istituzioni e per suggerire delle ricette per uscire da questa situazione. Tra queste il fatto che gli incentivi debbano andare soltanto alle cosiddette rinnovabili non mature, all'innovazione e all'efficienza, una rivitalizzazione del mercato della CO2. Noi pensiamo che ci debba essere un unico forte obiettivo per la riduzione della CO2, ma non più spacchettato tra efficienza e rinnovabili e CO2, ma un unico obiettivo che possa essere raggiunto con le tecnologie migliori che matureranno nei prossimi anni. Pensiamo anche che la centralità del gas, in particolare in Italia, debba essere salvaguardata. Pensiamo che il gas sia complementare al sistema delle rinnovabili. Ricordiamo che nel nostro Paese sono stati fatti investimenti molto importanti sulle infrastrutture gas e pensiamo che queste debbano essere tutelate nel modo opportuno, anche perché il gas può garantire la flessibilità necessaria al sistema. Bene, però oltre le cose che le utility hanno chiesto, pensiamo che le utility debbano cambiare un po' mentalità, trovare dei nuovi modelli di business. In questo senso Gedef Suez vuole essere il leader della transizione energetica europea. Che cos'è la transizione energetica europea? È la conversione che sta avvenendo, anche dovuta alla overcapacity della produzione energetica e del gas che abbiamo in Europa, alla conversione verso un nuovo sistema che deve convivere le centrali tradizionali, perché ancora garantiscono il sistema, la generazione distribuita, l'efficienza, l'innovazione. Soltanto se si riuscirà a governare questa transizione energetica, le utility potranno avere un futuro. In questo senso Gedef Suez vuole promuovere una nuova cultura energetica. Per esempio qui in Italia abbiamo appena aperto il portale del consumatore, anche per spiegare ai consumatori, tutti i segreti e tutte le sigle a volte incompressibili che ci sono nel campo dell'energia. Li vogliamo aiutare. Gedef Suez è l'unico tra i grandi operatori energetici ad avere una propria divisione specializzata in efficienza energetica. Pensiamo che il cliente, si dice spesso che il cliente deve essere al centro, noi pensiamo che il cliente in questo caso debba essere dovunque. E quindi andare verso il cliente è un'altra delle cose che le utility dovranno fare se vogliono sopravvivere. E in questo senso l'anno scorso quando abbiamo lanciato il forum dell'innovazione abbiamo parlato dell'innovazione in senso generale e in senso di prodotto. Quest'anno vogliamo parlare di innovazione, innovazione verso il cliente e innovazione di sistema e quindi parleremo delle energy community che sono la unione di alcuni consumatori, di alcuni clienti che può provocare vantaggi sia a loro stessi sia al sistema. Vi ringrazio ancora e vi saluto. Ma prima di farlo andare via, deformazione professionale, una domanda però che la voglio fare brevissimamente. Ma le utility dell'energia diventeranno come le TLC? Come? Diventeranno come le TLC? Le società di energia? Ma non credo che diventeranno come le TLC. Le TLC magari rischiano di fare concorrenza agli operatori dell'energia più che altro. Vedremo se gli operatori dell'energia potranno fare concorrenza ad altri ancora invece. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Ora chiamo il professor Vittorio Chiesa, ordinario e direttore dell'Energy and Strategy Group del Politecnico di Milano, con il quale entreremo un po' più nel dettaglio delle energy community, cioè se è applicabile la residenziale, la terziale, la pubblica amministrazione, come risparmiare, ma soprattutto le comunità potenziali, i costi tecnici, gli argomenti con cui entriamo più nel concreto del tema. Grazie. Grazie. Grazie per l'introduzione. Ringrazio ovviamente Gas de Françoise per averci, diciamo, chiesto di contribuire anche quest'anno a questa seconda edizione dell'osservatorio. Come detto nell'introduzione dell'ingegner Chiarini, oggi in realtà parliamo di un tema in qualche modo che guarda all'energia in una prospettiva di medio e medio-lungo termine, quindi una soluzione praticabile che tuttavia evidentemente si basa su tecnologie abilitanti disponibili, ma rappresenta un salto paradigmatico molto significativo. E da questo punto di vista quindi noi abbiamo cercato di analizzare quali sono nei fatti le soluzioni praticabili e soprattutto di, come dire, calare sopra queste un'analisi delle performance energetiche ed economiche che queste soluzioni possono già oggi prospettare. La mia agenda sarà così articolata, un breve inquadramento dell'argomento, una mappa delle tecnologie coinvolte, i modelli paradigmatici, quindi gli esempi che sono stati trattati, gli economics, quindi le performance sia energetiche che poi strettamente da un punto di vista economico-finanziario e quali potrebbe essere uno scenario di diffusione di queste soluzioni. Partirei da una definizione, di fatto appunto con Energy Community si fa riferimento a un'aggregazione di utenze che decidono in comune di scegliere, diciamo di fare delle scelte in materia energetica, quindi di gestire la variabile energetica in modo comune. È una soluzione che di fatto nasce dalla disponibilità di tecnologie che in qualche modo fanno riferimento a due grandi fenomeni. Da un lato la diffusione dell'energia distribuita, quindi la possibilità di produrre a livello distribuito energia, dall'altra parte il tema, diciamo, della convergenza tra information technology ed energia stessa, cioè il fatto che ci possa essere una gestione intelligente dei flussi energetici stessi. Quando parliamo quindi di Energy Community parliamo di soluzioni in cui di fatto si vengono a costruire delle micro-reti, delle sub-reti a cui sono attaccate delle utenze e che dispongono internamente di sistemi di produzione di energia e di sistemi come quelli di accumulo che consentono di gestirla e che queste Energy Community in qualche modo possono essere di diversa natura. Off-grid, quindi in teoria completamente autonome, oppure on-grid, quindi a loro volta collegate alla rete e dove questo collegamento alla rete può avvenire a vari livelli, utilizzando la rete esclusivamente per colmare il, diciamo, picchi di fabbisogno oppure utilizzare la rete per un continuo scambio di energie, quindi con flussi sia in uscita che in entrata, ma in modalità, diciamo, continua. Quali sono le tecnologie che in qualche modo abilitano queste soluzioni? Direi tre famiglie. Da un lato tecnologie che si possono ricondurre alla produzione e utilizzo dell'energia, quindi impianti per la produzione dell'energia programmabile e non prevalentemente a rinnovabile, ma non solo. Ovviamente di questi sistemi fanno parte utenze che in qualche modo abbiamo categorizzato come utenze smart, quindi non sono utenze tradizionali, sono utenze che sono in grado di comunicare in modo bidirezionale con la rete e quindi di fornire alla rete informazioni, per esempio comunicando qual è il fabbisogno appunto di queste utenze e dall'altra parte catturando dalla rete informazioni, per esempio qual è il prezzo a cui è disponibile energia istante per istante. In questo ambito ovviamente un ruolo importante, direi centrale, ce l'hanno i sistemi di storage, quindi i sistemi di accumulo, quei sistemi che consentono di accumulare energia e quindi differire l'uso dell'energia dal momento in cui l'energia è prodotta o è disponibile. Una seconda categoria di tecnologie fa riferimento diciamo a quella che si potrebbe definire intelligenza, cioè sostanzialmente tutti questi sistemi di produzione e anche di utilizzo sono appunto dotati di intelligenza e sono collegati a sistemi di gestione centralizzata di questi flussi che quindi diciamo fanno, si affidano a un hardware e un software che consente appunto di gestire i flussi energetici in termini bidirezionali a fronte del fatto che vengono gestite queste informazioni proprio in entrambi i sensi, quindi stiamo parlando di sistemi di software di gestione controllo monitoraggio e dell'hardware conseguente. Una terza categoria è rappresentato degli aspetti di natura infrastrutturale, quindi le reti energetiche vere e proprie e ovviamente le infrastrutture di comunicazione perché ci sono i protocolli di comunicazione e le reti di comunicazione che evidentemente sono parte di queste microreti. Quali sono i benefici di queste soluzioni? Sostanzialmente tre, da un lato un risparmio in bolletta che deriva da un minor uso della rete da una parte e da efficienza energetica, quindi da risparmi in termini di consumi o da consumi più efficienti. Un seconda categoria che è il fatto che migliora la qualità e l'affidabilità dell'energia, ci sono utenze che sono sensibili al fatto che l'energia venga fornita senza interruzioni, senza cadute di tensione, presenti una qualità effidabilità elevata, queste microreti sono in grado di assolvere questo tipo di esigenza. Terza battuta, una riduzione della impronta carbonica ovviamente. Abbiamo studiato come dicevo alcuni modelli per provare a vedere calando nella realtà come stanno le cose e abbiamo distinto due situazioni, ambiti cosiddetti puri, cioè ambiti nei quali sono state aggregate utenze della stessa natura. Tra questi una soluzione residenziale, quindi un complesso residenziale nella nostra simulazione composto da 30 unità abitative, nell'ambito del terziario, quindi un'aggregazione di centri commerciali, un complesso ospedaliero e nell'ambito industriale un distretto industriale in cui abbiamo immaginato tre imprese che si mettono insieme per gestire l'energia in modo comune. Nell'altra categoria abbiamo trattato i cosiddetti ambiti misti, cioè ambiti nei quali in realtà sono state messe insieme utenze di carattere diverso, quindi abbiamo immaginato una soluzione che abbiamo chiamato urbana, quindi praticabile in ambito diciamo cittadino urbano in cui complesso residenziale per esempio e un complesso ospedaliero vengono aggregati insieme e un caso di ambito misto extraurbano in cui invece abbiamo immaginato centri commerciali e distretti industriali che si aggregano a questo fine. Per dare un'idea ovviamente stiamo parlando di soluzioni complesse da un punto di vista delle tecnologie coinvolte e quindi dell'articolazione della soluzione. Quindi questo è l'esempio calato sul caso del residenziale, nel residenziale stiamo parlando, abbiamo simulato una situazione nella quale la produzione di energia viene soddisfatta con l'impiego di fotovoltaico e pompe di calore, si immagina di dotarsi di illuminazione efficiente, le appliances, quindi tutti i device che beneficiano dell'energia, in testa gli elettrodomestici sono evidentemente degli appliances smart, quindi dotate di quell'intelligenza di cui parlavamo in precedenza, sistemi di building automation, quindi abitazioni dotate di sensoristica per la gestione dell'energia, anche il fatto che il complesso residenziale si doti di auto elettriche, sistemi di accumulo e accanto a questo come dicevamo prima, hardware e software per la gestione del controllo e monitoraggio e gli aspetti di natura infrastrutturale, quindi questo per dare l'idea che si parla di soluzioni articolate che coinvolgono una molteplicità di tecnologie. Nelle nostre simulazioni abbiamo considerato queste situazioni, un condominio con 30 unità abitative, tre centri commerciali, un complesso ospedaliero, tre imprese industriali e nel caso i misti cinque condomini con un complesso ospedaliero e infine tre centri commerciali uniti a tre imprese industriali, di cui trovate poi i dati per dare un'idea della dimensione di cui stiamo parlando. Quali sono i risultati che sono emersi in termini di performance? Da prima energetiche, allora in verde trovate il grado di utilizzo della rete, cioè di quanto aumenta o diminuisce l'impiego della rete come conseguenza dell'adozione di queste soluzioni, in azzurro trovate invece l'effetto in termini di risparmio energetico. Allora se vedete in tutte le soluzioni tranne il residenziale si osserva una significativa riduzione del ricorso alla rete che addirittura nei casi misti, urbano e extraurbano, arriva a toccare picchi dell'80-90%, quasi vicino al 100%, quindi siamo vicini quasi anche all'indipendenza e comunque anche nelle soluzioni aggregate pure abbiamo delle soluzioni che ricorrono alla rete in un ordine del 50-60-70% meno rispetto alla soluzione tradizionale. In termini di efficienza, quindi di risparmio ottenuto, andiamo da pochi punti percentuali, 2-3% fino a picchi del 10-11 per quanto riguarda tutti i casi tranne il residenziale. Il residenziale va un po' per conto suo, nel senso che in realtà l'energy community applicata al condominio in qualche modo determina, proprio per effetto del fatto che uno per esempio si deve dotare di accumuli che consentono poi di gestire il rapporto con la rete in maniera più frequente, in realtà lo scambio con la rete aumenta in termini percentuali di impiego della rete ma questo consente un livello di efficienza e di risparmio energetico molto elevato fino a punte oltre il 60%. Se a questa analisi aggiungiamo invece una valutazione di carattere economico, quindi andiamo a calcolare l'IRR dell'investimento, possiamo osservare che abbiamo sempre delle situazioni positive, diciamo limitatamente positivo nel caso del residenziale, però se pensiamo che poi gli investitori sono gruppi di famiglie, un 5% di IRR è anche come dire una soglia abbastanza interessante di investimento. Nei casi diciamo di ambiti puri, quindi industriali, terziari o PA o ambiti misti, stiamo parlando di IRR che vanno dal 13 fino al 38%. Sottolineo il fatto che gli ambiti puri mostrano di fatto il ritorno economico più interessante, l'industriale in testa a tutti, 38%, e potrebbe sorprendere il fatto che l'ambito misto urbano ed extraurbano in qualche modo presenti degli IRR leggermente inferiori. L'idea dell'ambito misto è che uno aggregando utenze che magari compensano le cose in qualche modo ottimizzi la situazione. In realtà gli ambiti misti chiedono un impiego di sistemi di accumulo significativi da un punto di vista dimensionale e ovviamente in questa presentazione non si possono trattare poi tutti i temi nello specifico che sono stati trattati nel report, i sistemi di accumulo ad oggi presentano ancora costi molto elevati, quindi l'innalzamento della dimensione del sistema di storage comporta costi addizionali molto rilevanti e conseguentemente una leggera penalizzazione in termini di IRR. L'industriale come dicevo presenta un ritorno economico estremamente interessante sostanzialmente legato al fatto che l'adozione di sistemi di cogenerazione in ambito industriale soprattutto in maniera aggregata consente obiettivamente dei risparmi e una riduzione dell'impiego della rete estremamente significativo che porta l'IRR addirittura vicino al 40%. Ci si potrebbe chiedere ma quanto costano investimenti di questa natura? Ovviamente si parla in alcuni casi di investimenti diciamo abbastanza cospicui ma in altri sufficientemente contenuti. Per un complesso residenziale la stima di quella soluzione di cui ho brevemente fatto la descrizione prima comporta circa un investimento di 700.000 euro. Nei casi diciamo degli ambiti terziario, industriale e misto stiamo parlando di soluzioni nel caso industriale al di sotto dei 2 milioni di euro. Sottolineo il fatto che a parte il residenziale che ha una prospettiva di payback di circa 14 anni quindi come dire un tempo di ripagamento abbastanza lungo tutte le altre soluzioni si attestano su un tempo di ripagamento che oscilla tra 4 e 8 anni. In particolare ancora una volta sottolineo l'ambito industriale che dal punto di vista dell'IRR e quindi e conseguentemente del tempo di ripagamento presenta delle condizioni estremamente interessanti. Un ultimo dato di carattere economico fa riferimento a qual è il costo di produzione dell'energia associato a questa energy community, cioè quanto ci costa il kilowattora che va a soddisfare il fabbisogno di queste utenze aggregate. Faccio presente che quello che abbiamo potuto ovviamente stimare è un costo tecnologico medio, cioè è il costo che deriva dagli investimenti in capitale, quindi in tecnologie che sono stati fatti e dai costi di gestione che la gestione di questo sistema comporta. Quindi non è direttamente confrontabile col costo di prelievo dalla rete che ovviamente ha dentro di sé una componente di oneri di sistema eccetera che ovviamente lo rendono non confrontabile in maniera immediata. Anche qui l'analisi ha riguardato sia il costo relativo all'energia elettrica sia il costo relativo all'energia termica. La prima in blu, la seconda in rosso. Il residenziale come vedete va un po' per conto suo, come abbiamo visto è un modello in cui la community in realtà porta risultati un po' differenti dagli altri casi. Di fatto nel residenziale l'utilizzo dell'energy community che cosa comporta? Un azzeramento del fabbisogno termico che quindi non c'è in qualche modo, che uno autosoddisfa grazie alle tecnologie di cui si è dotato e invece un inasprimento del costo tecnico di produzione dell'energia elettrica. Perché? Perché di fatto vado a elettrificare la soluzione, diciamo la produzione di energia termica. Complessivamente però come abbiamo visto ai dati precedenti con un vantaggio, nel senso che ha un vantaggio importante di risparmio e soprattutto di efficienza energetica. Nelle altre condizioni, altre soluzioni, io diciamo arrivo ad oscillare nel costo di produzione dell'energia elettrica da 1 a 12 centesimi, ancora una volta l'industriale con un centesimo di euro di produzione rappresenta il caso più interessante, nel caso dell'energia termica parliamo di una oscillazione che va da circa 0,5-0,6 centesimi di euro a kilowattora fino a 1, quindi una riduzione del costo estremamente significativo. L'ultima considerazione che abbiamo fatto è relativa allo scenario di diffusione, cioè ci siamo chiesti, ma di queste energy community quante se ne possono fare? Ovviamente la limitazione alla diffusione è legata alla prossimità delle utenze, nel senso che se ci sono delle utenze che devono condividere le scelte devono trovarsi, come dire, geograficamente in un ambito circoscritto. Allora abbiamo stimato che in Italia se ne potrebbero realizzare 475 mila, di cui una larga parte nell'ambito residenziale, stiamo parlando evidentemente dei condomini che condividono unità abitative, e diverse migliaia negli altri casi, soprattutto centri commerciali, aggregazioni di centri commerciali e aggregazioni di imprese. ci siamo anche chiesti quanto questo tipo di soluzione possa portare in termini di giro d'affari. Allora abbiamo stimato che nel caso in cui di questo mercato, quello dei 475 mila di prima è un mercato potenziale, è teorico, immaginiamo che tutti si trasformino in utenti di energia dal punto di vista autonomo, noi abbiamo ipotizzato una penetrazione del 5%, quindi vuol dire che di quelle 475 mila se ne dovessero fare 23 mila, che è il 5% appunto del teorico. A questo 5% è associato un giro d'affari di circa 30 miliardi, e se andiamo a spacchettare questi 30 miliardi, 29,2, in quali tecnologie questi miliardi vengono ripartiti, abbiamo che quasi 10 vanno in sistemi per la produzione distribuita da fer di energia elettrica, poi c'è una componente importante di cogenerazione che si porta via quasi 6 miliardi, c'è una componente rilevante di accumulo, oltre i 4, e a seguire illuminazione, building automation, home appliances, immobili, pompe di calore, che sono le tecnologie che in qualche modo vedrebbero un impiego importante in questo tipo di soluzioni. Un'ultima considerazione si rifà alla ricaduta industriale che questo tipo di soluzioni potrebbe avere. In questo diagramma vedete sull'asse delle X l'italianità, ovviamente stimata in maniera qualitativa, ma in base un po' all'occupazione di mercato che l'Italia ha di queste tecnologie, e sulla parte, diciamo, sulla verticale il volume d'affari. Ecco, mi piace dire che grazie al posizionamento in Italia abbastanza interessante che abbiamo sulla produzione di energia elettrica da fer distribuite, cogenerazione, illuminazione, pompe di calore e anche building automation, oltre che le home appliances, in qualche modo un'evoluzione in questa direzione produrrebbe anche una ricaduta interessante sul mondo industriale, quindi in qualche modo eviterebbe quell'effetto che spesso viene attribuito come accusa alle rinnovabili in cui si è spinto molto sull'adozione, ma l'adozione non ha prodotto una ricaduta sulle filiere di natura industriale. Io nel rispetto dei tempi ho praticamente concluso, non vi leggo questi messaggi chiave che riproducono i numeri che vi ho già raccontato, faccio solo due brevissime considerazioni finali. Da un lato che ovviamente tutto questo fenomeno chiede un assetto normativo nuovo e quindi in qualche modo sono modelli che devono essere resi possibili dalla normativa. Secondo che ovviamente trattando il tema dell'energia in maniera così complessa e aggregata, credo che le utility abbiano un ruolo importante nella capacità di trascinare il sistema verso questo tipo di soluzioni, proprio perché sono le uniche corporation in grado di aggregare fornitori diversi e portare presso l'utente e proporre agli utenti soluzioni così articolate. Grazie. Grazie a lei. Chiamo al professore ovviamente di accomodarsi con noi per la tavola rotonda e chiamo anche gli altri protagonisti della tavola rotonda. A cominciare da Guillaume Lehec, che è responsabile del Dipartimento di Flexibility, Aggregation e Comettering di Gas de France, US. Abbiamo poi Yasuyuki Watanabe, responsabile del Dipartimento di Battery Solution per i taci Chemical Europe. Stefano Besseghini, amministratore delegato di ricerca sul sistema energetico, l'RSE. Maurizio Melis, divulgatore scientifico per Radio 24, il gruppo Sole 24 Ore. E mi hanno detto che è anche arrivato e quindi chiamo anche Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, che alla fine della tavola rotonda ci, come dire, tradurrà poi in quello che gli italiani potrebbero, vorrebbero fare di tutto ciò. Cominciamo con la tavola rotonda. In realtà con due esempi pratici, due racconti di quanto sta accadendo nel mondo che ci ha appena raccontato il professor Chiesa. Quindi chiedo a Guillaume Lehec di raccontarci quello che sta avvenendo in Francia, degli esempi molto pratici, credo più che esperimenti, proprio delle questioni tecniche dei progetti che avete sviluppato. Prego. Thank you very much. I first thank GDF Suez Energy Italia for inviting me for presenting you the GreenList project. So, Professor Chiesa told us about different calculations, different simulations about smart grid and the energy community. I will talk to you about the GreenList project. GreenList is a project, a field project about energy community, which aims at testing smart grid in real life. So, first I will present you, I will remind you what is demand-side management, because GreenList is focused on demand-side management. Demand-side management is the ability of a customer to reshape its lot curve when there are opportunities on the market, or for the TSO, or for the DSO, to create more value. So, customers have this ability. We distinguish two kinds of optimizations for a customer. We've got static optimization, which is the ability for a customer to reshape statically its lot curve. So, it can reduce the volume of consumption, it can reduce the subscribe power on the grid, and at last, it can optimize the hour of consumption. It is what we call time of use. So, all those three actions allow the customer to reduce the bill he's got. But we've got an additional way to reduce the consumption of the customer. This way is to optimize dynamically the consumption of the customer. So, the customer can, each day, each hour, decide to reduce the consumption, to shift the consumption, another day, another hour. This is what we call the customer flexibility. And this is about this flexibility that is organized GreenList. So, the GreenList project ends at assess the possibility of the grid to accept new way of production. So, renewable production, distributed generation. So, for example, solar panel, for example, CHP, for example, wind power. All those predictions have an impact on the distribution system operator and can create a lot of pain for this operator. So, this operator needs flexibility and this flexibility can come from gas assets and this flexibility can come from demand side management. So, GreenList project is founded by the Energy Efficiency Agency Agency of France, which is called ADEM and is organized around GDF Suez. So, the aim of GreenList project is to assess first the social acceptance of the customer because usually we are talking about this value of flexibility, but who cares about this value? Is the customer interested by demand on side management? Is it okay for him? So, we have to test that with true customer. So, this is the main purpose of GreenList. We've got 1,000 customer, B2C customer, so residential customer, and we've got 40 tertiary customer. So, through these true basis of customer, we will assess the acceptance. Are our offerings interesting for them or not? How many money do they ask from us? Is it okay? So, this is what we are testing with them. Second point is, well, what will be the operational link between all those new players? Because, at the moment, we've got the producer, the TSO, the DSO, and the customer. But, in the future, we will have producer, TSO, DSO, local producer, and aggregator. How will we play all those new players on the field? And this is one purpose of GreenList, what will be the operational link between the DSO and the aggregator. Another purpose of GreenList is to design the future market design of the local energy field. When we are talking about energy transition, we will have more distributed generation and then we will need more information sharing between distribution, TSO, and aggregator, and supplier, and customer. So, we have to design a full new market design with this energy transition and GreenList project is designed to do so, and we are proposing a new regulatory frame to the regulator in France. So, we've got different players involved in the GreenList project and this is very important for the representativity of our results. We've got first TSO and DSO. We've got ERDF and GEG, two main players on the DSO market in France, and we've got the TSO in France, which is RTE. We've got producer and suppliers with GDF Suez and GEG, which is a local player in Grenoble. We've got research institute, main one like Grenoble and LNP. And we've got the CEA, which is one main research institute in France. And we've got also manufacturers and IT operators because, as Professor Chiesa said, it is very important in the future to imply, to involve more IT operators to get the value on the market. So, the package for the B2C customer is quite simple. We propose them new boxes from Schneider, the Schneider Weiser box, which is a solution for them to reduce their energy consumption and to optimize dynamically their consumption, as I said. So, through these solutions, they've got a a way to monitor their energy consumption in real time, so they can see each day how much they consume last day, last week, last month, and so they can optimize their consumption. We've got energy management tool, so customers can now schedule their consumption with electric appliance. Before, we did so only with gas and fuel appliance, but now we can do so with electric appliance for electric heaters and electric cooling. And we propose to our customer remote control device. So, you can change the temperature from your office if you can go home earlier or later. And the last point, we propose a service of load shifting, so we can help the customer to temporarily change the temperature in his house or in his flat, in order to reduce temporarily the consumption of the house, and so we can create value on the market, or for the TSO and the DSO. The first result of GreenList as aggregator is that we confirm the interest of the customer for package offering, especially with gamification and changes within the user community. This is very important for them to be interested to reduce their consumption. We will assess the true energy reduction in the next month. We observe that actually we have no impact on the comfort of the customer when we shift the load of them, and so we have only 3-5% of consolation of the load shifting order we send. And we've got a very, very high available portfolio with 90% availability, which is very interesting for the DSO as they are looking for flexibility on the grid. We will assess the value we create for the system, the true value we are creating for the whole electric system next month also. So what is the value for the TSO, the DSO, and the customer. And what we can say at the moment is that the solution is technically scalable, but actually the offering has now to be tested beyond the early adopters, because early adopters are very interested by such technological offerings, but now we have to test that with a common customer. We have to optimize also installation and maintenance costs, because it is at the moment too expensive to be profitable on this market. We have to deploy smart meters on B2C customer, which is already done in Italia, but which is not done in France. And last, we have to make evolve the distribution tariff, because at the moment distribution tariff are too static, and it is not consistent with the dynamic value creation. Thank you. Grazie mille Mr. Leac, che ha spiegato cosa sta facendo i GDF suez in Francia. E ora affrontiamo un tema, forse ancora più specifico che quello delle batterie di cui ci parlerà Mr. Batanave. Un tema però che sappiamo, almeno io me ne occupo anche spesso per lavoro, è fondamentale per svolgere i progetti di cui stiamo parlando e di cui ci ha appena spiegato Mr. Lecce. Mr. Watanabe. So this is a diagram showing the positions of each energy storage system, so from left to the right, R&D stage, and demonstration and development, and commercialized technology. On the vertical axis shows the capital requirement, so upper battery means that they need a lot of more investment. So Hitachi Chemical produces, as shown here, a red acid battery, which is considered as a traditional battery, and the lithium ion batteries, on top of that, actually this is a very, this needs a very big investment still, and also lithium ion capacitor. So this is also a diagram showing the battery technologies between the power and the energy, so horizontal axis shows the power and the vertical axis shows the energy. So if you look at, on the left side, sodium sulfur, red acid battery, nickel, metal, hydrate batteries have a lot of energy in the upper position, but there is less energy, less power. On the other hand, if you look at lithium ion capacitor on the right, they have a lot of power, however, energy is very little. And intermediate between the red acid battery and the lithium ion capacitor, lithium ion battery is sitting there. I think in Italy, lithium ion battery becomes very, more and more familiar. And we produce the red acid battery, lithium ion battery, and lithium ion capacitor, so we produce the batteries for all the categories in three segments. So we are introducing several technologies, each technology in one or two slides. At the beginning, this is a red acid battery. So if you look at the red acid battery in your car, I think you can expect a lifetime around three years or five years, because you have to replace the battery in the car every three years or less, something like that. But this battery is surviving around 10 years or 15 to 17 years. And of course, the cost comparing to lithium ion battery, even to our lithium ion battery, the cost is one third or one fourth of the battery. So obviously, the benefit of this type of the red acid battery is cost. This is an example that this battery actually survived for 10 years. We installed our red acid battery in the wind firm for the output stabilization. And this shows actually the battery survived for 10 years in the isolated island in the very bad condition at 35 degrees Celsius. So this battery, as I said, very low cost comparing to other battery technologies, and the lifetime is more than 10 years. So this battery is one of the options to increase the return on investment for energy storage system. The other slide shows the lithium ion battery. So not only our company, but also a lot of Asian company and European company produces a lithium ion battery. So we produce the two types of the lithium ion battery. One is a low power lithium ion battery. So this is a discharge power is a so-called three shear rate or four shear rate. This is a lower shear rate, but this is a lower cost comparing to higher power lithium ion battery. As shown here, a cycle is 8,000 cycles at DOD 100%. So regardless of our battery is good or not, I think the cycle number is a very important key factor of the lithium ion battery. So all the lithium ion battery manufacturers are trying to extend the lifetime or life cycle. The other lithium ion battery is originally developed for the hybrid electrical vehicle. So this type of battery must react to the driver's axle or brake very quickly. That's why this battery can discharge and charge very quickly, comparing to the lower power lithium ion battery. So this is used for not only for hybrid vehicle, but also the energy storage for train, railway and crane, etc. The last slide shows the fireproof lithium ion battery. So if you look at the battery in the Boeing 767, or if you look at the EV in the China, for example, lithium ion battery is sometimes fired. So, happily, our battery has not been burned, but comparing to traditional lithium battery technology, lithium ion battery is still concerned by the market. So this is one of the examples of our development that we are using, we have used, let's say, a fireproofed electrolyte in here to reduce the possibility to get fired. Not to get fired, the electrode actually can extinguish the fire. So, please understand, this is one of the direction of the lithium ion battery manufacturer to go. So I'm skipping, this is the captain. So in the last two slides, I'm, let's say, showing some example in the Far East Asia in Japan. So the first example is a smart city near Tokyo named the Kashiwanaha project. So in this area, the scale is around several square meters. There are a lot of buildings and research centers and a very big shopping mall near Tokyo. So, not only the energy storage system, but also energy management system and other PV system, small wind farm system, et cetera, et cetera. Most of the components which can help to reduce CO2 or reduce the energy consumption are included here. The purpose of this project is peak shaving. So they are trying to the peak of energy between the buildings or facility. The second one is a CO2 reduction. Their target is now 40 to 50% reduction of CO2 by introducing this system. The third one is, I think this is some specialty in Japan, to improve the disaster tolerance. So after Fukushima, Japanese government is funding the project for the disaster tolerance system. So by introducing this system, comparing to the previous situation, the system is securing 60% or 20% of power in case of blackout or disaster. So this is a kind of characteristic of Japan. The target energy saving cost is approximately 100 to 150k euro per year, and the payback period is aimed at approximately 15 years. So this number could be some example to Italy as well. The second example is a factory energy management system. So Hitachi has several factories around the Ibaraki area near Tokyo, and they are, I think, three factories connecting by cable. So by introducing not only the battery, but also other PV system, EV charger, et cetera, they are aiming the peak shaving and power stabilization for grid. And this, as shown in number three, the purpose also includes to improve disaster tolerance, because actually this factory has damaged by tsunami and other blackout when we had a tsunami three years ago. So energy communities sometimes request both energy, for example, for disaster tolerance, energy is needed. For example, eight-hour discharge or 24-hour discharge. And power, for example, for peak shaving and power stabilization. So the key is a selection or a combination of energy storage system in the energy community systems. So this is a summary. So I don't read this. But we provide several types of energy storage system. So I think we can and we want to help the energy community system in Italy. Thank you very much. Thank you very much, especially to respect the seven minutes limit for your speech. Thank you. Thank you. OK. Allora, possiamo passare a quella che con il regizzatore abbiamo poi definito tavola rotonda, nel senso di cercare di fare magari un, diciamo così, mini-battito. Cominciando con Stefano Besseghini, al quale chiederei subito, ma abbiamo visto esempi che sono stati fatti in Francia, ci è stato presentato anche un caso in Giappone. Allora chiedo in Italia se tutto ciò sarebbe possibile, quanto sarebbe possibile, se con costi ragionevoli, se abbiamo bisogno, oltre che di una legislazione diversa come abbiamo detto prima, anche però di un sistema diverso, di un modello diverso. Io intanto grazie della presentazione, grazie dell'invito, io partirei intanto dalla considerazione di fatto che è una considerazione positiva, nel senso che non dimentichiamoci che in Italia abbiamo un sistema elettrico che certamente non teme concorrenza, sostanzialmente ha subito un significativo improvement tecnologico negli ultimi dieci anni. Siamo, ormai credo questa sia una vulgata nota a tutti, l'unico paese che ha un deployment dei contatori elettronici che non saranno la soluzione di tutti i problemi, ma certamente sono una condizione necessaria, ancorché non sufficiente per qualunque discorso di smartizzazione e di integrazione di tecnologie diverse. Abbiamo una rete che in termini di automazione e di capacità di controllo remoto è assolutamente significativa. Direi di più, allargherei un po' il perimetro, abbiamo anche un'autorità di regolazione che è sensibile al tema dell'innovazione, che ha sempre dimostrato grande attenzione a esplorare settori nuovi e campi nuovi dove provare ad applicare nuove tecnologie. Quindi mi verrebbe da dire, peraltro sono in corso come sappiamo nove progetti di verifica di test di smart grid e altre tanti o poco di più per quanto riguarda la mobilità elettrica che stanno cominciando a dare i loro primi risultati, quindi mi verrebbe da dire che non siamo in un contesto che conosce particolari difficoltà organizzative e infrastrutturali in cui partire. Io vorrei portare un po' la riflessione, io ho ben 20 minuti quindi posso prendermi del tempo con grande ampiezza, su tre elementi centrali che mi sembra tengano assieme, se gli interventi che mi hanno sentiti sia la pregevole presentazione fatta da professor Chiesa, che sono una questione di sistema, d'altra parte faccio amministratore legato a uno strutture che si chiama ricerca di sistema energetico, quindi non posso esimermi da questa considerazione, un aspetto di tecnologia e un aspetto legato al tema del demand side management che un po' abbiamo visto emergere nella presentazione del collega francese. Sulla questione del sistema direi che certamente le energy community hanno questo grande potenziale di essere la declinazione operativa di un cambiamento di paradigma e di sistema che percepiamo, voglio dire è dibattito comune e abbastanza condiviso che la grande penetrazione di rinnovabile, ma in generale l'innovazione tecnologica che sta dando senso a una generazione distribuita che non è più solo la replica in decimi di un modello centralizzato e declinato localisticamente, ma che sta diventando qualcosa di significativamente implementabile grazie alle tecnologie, ci chiede di ripensare anche un modello di sistema che è nato su certi presupposti economici, generali e quant'altro che appartenevano al secolo scorso da tutti i punti di vista. Last but not least non dimentichiamoci che c'è un aumento della capacità di controllo e comunicazione legata all'esplosione del mondo ICT che è incommensurabile evidentemente rispetto a quanto c'era vent'anni fa, trent'anni fa. Per cui che, diciamo così, si ponga riflessione anche proprio una valutazione quasi ontologica del concetto di sistema elettrico non è una riflessione sbagliata, anzi è forse addirittura un po' in ritardo. Le utility credo che questo l'abbiano capito molto bene e ci sia un gran brainstorming nel cercare di capire quale modello di business, perché poi questo è l'elemento evidentemente chiave, quale modello di business sarà in grado di declinare profittevolmente il modello di sistema che decidiamo di implementare. E su questo devo dire che anche noi come struttura di ricerca ci lavoriamo parecchio perché, diciamo così, le dichiarazioni di wishful thinking sono abbastanza facili da declinare, poi accompagnare questo attraverso qualcosa che sia sostenibile economicamente e profittevole, che è l'altra condizione evidentemente da soddisfare, non è così immediato. Però anche qui, io un po' faccio il ricercatore di mestiere, quindi tendenzialmente sono ottimista, questa è un po' una caratteristica di tutti quelli che fanno ricerca, devono essere ottimisti, se no diventa dura. Devo dire che noi abbiamo, ad esempio, fatto lo scorso anno un interessante tavolo presso il GSE con un certo numero di operatori del sistema, chiedendogli fondamentalmente, beh, insomma, dateci qualche indicazione di quali sono i temi di ricerca che vi sembrano più ragionevoli attraverso cui noi condurre la nostra attività, un po' perché è sempre bene sentire dove vale la pena andare prima di avventurarsi. E uno dei temi che è venuto fuori in maniera molto forte è stato quello delle isole energetiche, cioè del fatto che, che in fondo sono un po' una rideclinazione del concetto di energy community, detto prima che si parlasse di energy community, nel senso che il grande sviluppo delle rinnovabili che abbiamo avuto in Italia, poi possiamo avviare un dibattito lunghissimo, giusto, sbagliato, più veloce, più lento, eccetera, ma certamente ci ha messo, ci ha consegnato un sistema industriale che è capace di organizzare isole energetiche, fisiche, perché proprio abbiamo delle isole, o virtuali, perché abbiamo dovuto rispondere all'esplosione di generazione localizzata, quei cogli di bottiglia che creava e che quindi di fatto configurava un'isola di sistema, su cui siamo molto bravi ad operare. Cioè esiste una filiera industriale che è capace di gestire queste situazioni. Quando noi ridecliniamo queste situazioni in paesi dove il sistema elettrico è meno sviluppato, sono occasioni di mercato che ci si presentano, sono opportunità che possiamo sfruttare. Quindi questo mi sembra un primo elemento di pregio. un secondo elemento è quello, torna inevitabilmente, dell'ICT. Le energy community sono certamente un ambito che mette a sistema tutto quello che diceva il professor Chiesa, quindi generazione, consumo, efficienza energetica, eccetera. Un elemento su cui, non che sia stato trascurato dalla sua presentazione, ma richiamo, rinforzo il concetto, è quello dell'osservabile del sistema. Cioè che il sistema dell'energy community sia capace di autodescriversi e di rappresentarsi verso il mondo esterno è un elemento fondamentale, che è fondamentalmente il concetto di smart grid nella sua essenza principale, cioè di essere capace di dirmi qual è la configurazione di sistema in quel momento, ma diventa ancora più forte perché metteremo in discussione il sistema globale, il sistema complessivo e quindi che questi singoli elementi siano capaci di rappresentarsi e di raffigurarsi nella dinamica del sistema complessivo è evidentemente un aspetto fondamentale. Non dimentichiamoci che prima Terna si lamentava del fatto che la gestione sulla distribuzione se uno non la vedeva e questo gli portava in crisi la gestione del sistema, se adesso nella distribuzione mettiamo degli ulteriori oggetti che non si descrivono, ripercorriamo, portiamo al quadrato il problema. Ma in troppo solo per dirle che a me i 20 minuti temo che non siano complessivi per tutti, ma anche per fare una domanda, sostanzialmente sono sistemi intelligenti che devono imporsi sugli altri? Che devono essere capaci continuamente di capire come si è configurato il sistema e rappresentarsi verso l'esterno in maniera da poter contrarre ad esempio quell'utilizzo positivo della rete che permetta quell'efficientamento che richiamava Chiesa nella sua presentazione. Per arrivare addirittura a una sorta di autogoverno poi a un certo punto? In qualche maniera sì assolutamente, il sistema è evidentemente il massimo per l'automazione è quello di avere addirittura il sistema che si autogoverna completamente, che poi sia fisicamente possibile, questo lasciamo allo sviluppo di portarlo a termine. e lasciatemi chiudere soltanto, però per rubare ancora due minuti, sull'aspetto invece di tipo tecnologico. Io credo che sia stata molto interessante la presentazione di Watanabe sugli accumuli, obiettivamente se dovessi indicare in questo momento un ambito in cui la ricerca ha senso che spinga, che spinga con una grande intensità, è proprio per, adesso io lo dico simpaticamente, la curva di Watanabe, cioè quella curva che abbiamo visto con la distribuzione diciamo della maturità tecnologica e quindi anche commerciale delle singole tecnologie, vedeva, se avete fatto caso, nella parte in basso a destra il pompaggio idroelettrico che è la tecnologia più pregevole di accumulo, che by the way, lo dico tra parentesi, non in Italia stiamo tranquillamente disattendendo, abbiamo 7 gigawatt di pompaggio possibile, ne usiamo forse il 15%, lo vede uno o qualcosa del genere. Il problema vero è riuscire ad avere dei sistemi di accumulo che sono capaci di esplorare tutta la scala del potenziale energetico dal grande accumulo fino al piccolo accumulo domestico. Allora lì veramente ha senso fare molta ricerca, segnalo solo così come dato di interesse che utilizzare un po' di brain aiuta anche in questo contesto. Noi ad esempio sul nostro test facility qua di Milano stiamo facendo da ormai un annetto una sperimentazione che ci sta dando risultati particolarmente gratificanti che è quello dell'accoppiamento tra il sistema di accumulo e la previsione meteorologica che è un tema che non è ancora in mezzo, ma molte rinnovabili come ben sapete dipendono primariamente dalla fonte solare, eolica o la stessa idroelettrica. La previsione meteorologica soprattutto di breve termine, soprattutto georeferenziata su una localizzazione molto limitata rappresenta di fatto l'unico strumento di prevedibilità e in qualche maniera di prevedibilità di dispacciamento che è in mano all'utente, all'utente evidentemente anche generatore professionale. Da questo punto di vista noi abbiamo provato ad accoppiare sistemi di previsione meteorologica e l'installazione di una quantità di accumulo che fosse in grado non di matchare la potenzialità di generazione del sistema complessivo, ma solo l'errore statistico intrinseco inevitabile della previsione meteorologica che noi abbiamo portato con i sistemi fase a circa un 5%. Questo determina evidentemente un risparmio economico in termini di installato che è necessario realizzare, sono almeno contento ai tassi perché la quantità si riduce un pochino, però evidentemente il vantaggio complessivo per il sistema diventa importante. Quindi se dovessi concludere con una riflessione che mi è venuta anche da quello che ho letto e ho sentito questo oggi, è che sicuramente le energy community sono un ambito di grande potenziale. Io credo che per come stiamo messi adesso, per come sta messo adesso il sistema, la cosa migliore che possiamo fare è non aver paura della sperimentazione, cioè avere il coraggio, anche regolatorio diciamo così, di favorire contesti di sperimentazione che poi magari moriranno tra cinque anni perché il sistema evolverà in maniera diversa e quindi prevedendo i normali e dovuti embedding per evitare bagni di sangue, ma certamente la possibilità di sperimentare tecnologie differenti e soluzioni differenti è in questo momento storico la cosa di cui non bisogna avere paura. Cioè più che cercare di pensare a monte il disegno ottimale da distribuire in maniera complessiva, avere il coraggio di affrontare la cosa con la sperimentazione e con la capacità di essere selettivi quindi poi di ammazzare diciamo quelle che oggettivamente non funzionano dando dell'indicatore dei key performance index che siano sensati. Quindi questo mi sembra il messaggio di sintesi che trarrei dalla giornata di oggi. Grazie. Grazie mille. Allora da un punto di vista personale torno un po' adesso con Melis a casa mia nel senso che finalmente abbiamo come divulgatore delle cose che abbiamo sentito io lo faccio di mestiere con un giornale ancora più generalista del tuo gruppo ma come dire poi il nostro compito è quello di cercare di tradurre. Ma allora quello che mi piaceva fare con te è dirti va bene davanti a tutto ciò il cittadino torna a scuola o dovrebbe tornare a scuola o dovrebbe avere delle competenze di livello che non è più soltanto come dire attivare lo scaldabagno. È vero che una tecnologia funziona ci hanno insegnato se con tre tasti la sappiamo usare perfettamente quando è troppo complicato no. Però tutto ciò che abbiamo detto secondo te si traduce o quello che è successo nell'energia in questi anni si è tradotto in messaggi se non dico tornare a scuola ma messaggi per i cittadini. No no allora se poi posso aggiungo due cose quelle però ti rispondo subito alla domanda che giustamente poni a me se sarebbe appunto il nostro mestiere. Infatti se c'era una cosa che ci tenevo particolarmente a dire era proprio questa. L'anno scorso qui abbiamo presentato delle ricerche, una situazione analoga veniva fuori per esempio che il 38% degli italiani è convinto di avere, di vivere in una casa ben isolata avendo vetri singoli alle finestre. Allora questa è la situazione, noi continuiamo a pensare che mettendo incentivi o mettendo qualche legge la gente capisce che gli conviene mettere la pompa di calore a casa. Non è assolutamente così. Allora mi riciclo una battuta, spero che non l'abbiate sentita troppe volte detta dal sottoscritto. Io dico sempre che se uno va per strada, fa un sondaggio e chiede a 10 persone che cos'è una pompa di calore si becca come minimo la denuncia per molestie sessuali. Come minimo. Allora in questa situazione, come possiamo pensare che quella roba lì diventi realtà? Allora quello che dobbiamo spiegare, la prima cosa che bisognerebbe fare, visto che ci sono anche un po' di politici qui, è utilizzare magari anche le televisioni di stato e cose di questo genere per fare un po' di disseminazione. La parola pompa di calore non deve evocare appunto cose diverse da una caldaia, insomma da un oggetto per produrre calore. Dobbiamo mettere la pulce nell'orecchio alla gente, dico da questo punto di vista, perché ovviamente non possiamo pretendere che diventino tutti dei termotecnici. Dopodiché vorrei farvi fare una riflessione. esistono esempi di culture tecniche diffuse, ce ne sono uno, chiarissimo quello dell'automobile. Cioè noi tutti non ci spaventiamo di fronte alla parola cilindrata, se io dico 50 cavalli tutti capiscono se dico 50 kilowatt mi guardano come se fossi matto. Perché? Allora è evidente che non è un problema di chissà quali competenze. Si tratta di mettere, di dare diciamo a tutti, o insomma il più largo numero possibile di persone, l'equivalente delle competenze che oggi abbiamo quando andiamo a sceglierci un'automobile. Cioè non ci spaventiamo di fronte a chilometri al litro o cose di questo genere, cavalli o volume del portabagate. Ecco, c'è lo stesso identico lavoro da fare dall'altra parte. Dopodiché nessuno di noi è in grado, non per questo siamo dei meccanici, sappiamo cambiare l'olio ma non andiamo molto oltre. Questa roba è da fare e finora non è stata assolutamente fatta. Perché da piccolini col meccano, oltre a farci fare la Torre Eiffel, dovrebbero farci una centrale sul Bogassa. Si, ma ci sono mille modi, insomma adesso ci sono mille modi. Io osservo una cosa, se si tratta la gente come stupida poi il risultato è che probabilmente si comporta anche da stupida, ma per esempio c'è una diffusa convinzione anche in trasmissioni televisive che di questi argomenti non interessino alla gente e non se ne possa parlare. Per esempio questa è una convinzione assolutamente sbagliata. Se si usa un linguaggio semplice, comprensibile e si fa capire alla gente che sta parlando di cose rilevanti per la loro vita, al di là del volemo sebbene salviamo il pianeta, che va benissimo per motivare delle scelte individuali, ma non possiamo pensare di puntare tutto su questo. Allora, se gli si spiegano le cose, quindi gli si tratta come persone intelligenti, si scopre che la gente invece vuole capire, è interessata, gli interessa bisogna sapere come funziona il frigorifero. Cioè abbiamo tutti un frigorifero a casa, pochi sanno come funziona, ma se uno glielo spiega, scopre che si trova di fronte un interlocutore che è curioso di capire. E la curiosità c'è anche nei confronti di tutti questi temi. Ora non so se posso aggiungere, se ti ho risposto, se posso aggiungere due o tre cose a quanto anche diceva Besseghini sono venute fuori. Allora, intanto io, come dire, condivido assolutamente la visione di Besseghini, per cui questo tema dell'energy community è l'effetto, è di natura, ha un'origine di natura, diciamo così, termodinamica. Alla termodinamica non si comanda. Cioè il nostro sistema energetico, da cui veniamo, era basato sul fatto che c'era un sostanzialmente vettore energetico, poi in forma liquida, gassosa o solida, ma un vettore energetico standard e le soluzioni erano standard. Allora, questo ha portato a un'idea di tipo, una gestione di tipo centralizzata della produzione dell'energia. Laddove, a questo punto cosa succede? C'è una dinamica a crescere che non si potrà fermare dei costi di estrazione di queste materie, c'è una quantità enorme di fossili in giro per il mondo, ma il loro costo di estrazione deve per forza aumentare, bene o male. Sì, si può trovare qualche trick come lo Shell Gas, ma anche lì si capisce bene, a dare il vero i conti, esattamente, sul lungo periodo. Però, insomma, l'eroe, il cosetto eroe, l'indice, quanta energia dobbiamo buttare dentro, questa roba aumenta, non c'è niente da fare. Le altre sono tecnologie giovani, che tendenzialmente possono solo diminuire di costo. Quindi, questa roba delle community è il risultato di questa roba qua. Cambia il vettore energetico, si torna alla legna, si torna al vento, si torna al sole. Il modello lì più sensato è quello più piccolo, delle comunità un tantino più piccole. Dopodiché, mi sembra che se effettivamente sul lato dell'accumulo arriva una tecnologia di rottura, che per onestà bisogna dire che in questo momento non si vede. Cioè, si vedono dei miglioramenti, ma i miglioramenti sono tipici, diciamo, sono tipici miglioramenti incrementali, importanti, per l'amore di Dio, interessanti, ma non si vede in questo momento quello scatto che potrebbe portare l'accumulo a cadere drasticamente di prezzo e diventare interessanti in una serie di situazioni. Se questo succede, il residenziale se ne va. Perché fotovoltaico più accumulo, più accumulo termico, che è importantissimo, perché l'accumulo... Per esempio, nel residenziale, alla fine moltissimi usi sono termici. Io posso usare energia elettrica anche per stoccare calore o freddo. E lì allora diventa molto efficiente il sistema, perché quelle sono robe più facili, diciamo, da stoccare. Allora, il residenziale se ne va. E sta in piedi con le rinnovabili. Perché? Perché è una questione di densità. Cioè, il problema delle rinnovabili è che sono a bassa densità. Ci sono tanta superficie per raccogliere tanta energia. Allora, il residenziale ha dei fabbisogni tali per cui ce la fa. Faccio fatica a vedere una fonderia che va con il fotovoltaico. Per cui questa roba delle energy community, io vedo molto una situazione in cui ci sono delle isole di tipo industriale, perché c'è proprio un fabbisogno tipico, e invece il residenziale che tende ad andarsene per i fatti suoi diventando tendenzialmente indipendente con una linea elettrica che serve da assicurazione. Allora, a maggior ragione, c'è bisogno che i cittadini siano più informati. I cittadini devono essere informati, devono essere informati i loro amministratori. credo che una campagna di informazione che in Italia non è mai stata fatta, perché ci sono state tante associazioni che si sono date da fare, ma la potenza di fuoco del volantinaggio è una roba ridicola rispetto a quello che serve. 13, 14 miliardi all'anno di incentivi alle rinnovabili non abbiamo speso un euro per fare più velocità progresso. È una cosa scandalosa avendo una televisione di Stato. secondo me è scandalosa. Mi fermo qui. Credo che nella tavola rotonda successiva ci sarà sicuramente modo di rispondere. Posso dire solo una cosa di 10 secondi? Mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa Chiesa. Ecco, secondo me c'è un tema importante rispetto a queste nascenti community. Cioè che tipo di regole bisogna dargli. Secondo me c'è, come dire, un aspetto molto importante è legato da un lato alla possibilità di utilizzare il più possibile fonti di tipo locale. Cioè tu devi essere premiato quanto più sono locali le tue fonti. E secondo me un aspetto fondamentale sarebbe stabilire dei sistemi premiati di incentivazione e disincentivazione per la capacità di programmabilità che ha quella rete interna di utenza rispetto a tutto il resto della rete. Una logica di questo tipo. Tu ti fai la tua rete interna di utenza, perché non vuoi pagare gli oneri? Perché di questo stiamo parlando, fondamentale. Allora, se tu sei programmabile, ti dichiari programmabile, io gli oneri non te li faccio pagare. Poi ogni volta che tu peschi energia, visto che non è previsto che tu lo faccia, ti meno su quella quota di energia che tu assorbi. Se tu non ti dichiari programmabile, una parte degli oneri la paghi, magari ridotta, ma la paghi. In modo tale uno si regola da solo e decide se voglio essere programmabile e poi devo essere capace di farlo. Perché altrimenti noi scarichiamo sull'infrastruttura di rete tutti i problemi che si creano cambiando. E diciamo affari vostri risolveteli. E nemmeno questo credo che sia del tutto accettabile. Prima di dare la parola a Nicola Piepolis, se vuole il professor Chiesa rispondere. Reagisco rapidissimamente. Nella conclusione, quando accennavo al fatto che c'è un'esigenza di un assetto normativo, facevo riferimento esattamente a questo. Bisogna poi trovare un equilibrio. Perché è chiaro che la rete complessiva va manutenuta, ammodernata, eccetera. Se tutti si rendono indipendenti e improvvisamente si tirano fuori, non possono pretendere poi, come dire, di accedere magari nel momento di picco o di scambiarlo nell'occasione in cui hanno da cedere energia al sistema. E quindi anche nell'ipotesi in cui si dovesse avere la costituzione di isole indipendenti, è chiaro che in questo ha trovato un equilibrio per non scaricare poi l'onere magari su un sottoinsieme di utenti che si trova. Questo è un aspetto che va studiato, va capito e a cui va dedicata sicuramente un'attenzione molto particolare e da cui, essendo l'energia un sistema regolato, dipende di fatto il futuro di questa applicazione. Che come abbiamo visto invece tecnologicamente impiega soluzioni praticabili e che potrebbero, per esempio lo storage, solo migliorare da un punto di vista della loro appetibilità economica. Grazie mille. Allora, abbiamo tirato in ballo negli ultimi interventi spesso gli italiani, allora adesso sentiamo se si riesce a capire cosa ne sanno e che orientamento hanno. Ma dunque, non so se c'è qualcuno che mi muove degli slide, ma prima di tutto ho sei minuti. Perfetto, è un tempo lunghissimo. Non so quindi se si muoverà e come si muoverà lo schermo, però comincerei un filo da lontano. Comincerei da Peccei. Come sapete, il club di Roma, che ha avuto il suo centro temporale con Aurelio Peccei intorno agli anni 70, tra il 70 e l'80, aveva divinato, aveva pensato attraverso una serie di modelli matematici a una catastrofe mondiale a livello del 2040. 2040-2050 il sistema ecologico mondiale non avrebbe resistito all'impatto di una decina di miliardi di viventi umani. Siamo nel 2020, ormai, cioè a 20 anni dalla data della catastrofe, e della catastrofe non se ne parla più. Quindi Peccei non aveva fatto nessuna breccia nel mondo di allora, e se si fosse fatto un sondaggio all'epoca sull'opera di Peccei e del club di Roma, il risultato sarebbe stato quello di incredulità. Se passiamo a oggi, se passiamo a oggi e passiamo alla comunità energetica, i dati che vengono dal nostro sondaggio sono fondamentalmente positivi, però non sono diversi dai dati che vengono da un sondaggio su Piero Angela. Piero Angela, nei sondaggi che abbiamo fatto per lui in termini di esponente della RAI, che all'epoca era ancora dentro il sistema RAI, adesso, come sapete, è consulente, tra lui e suo figlio hanno un'industria del futuro. Ebbene, Piero Angela risultava dai sondaggi avere un'approvazione da parte della gente dell'80%, oltre che una conoscenza del 90-95, è una intention to buy, cioè intenzione di acquistare i programmi di Piero Angela del 40%. Poi andavamo a vedere l'audience e l'audience di Piero Angela per quei programmi, in particolare un programma sull'economia, era del 15%. Quindi una cosa è quello che dice la gente, una cosa è quello che immagina la gente, in positivo o in negativo, in questo caso in positivo, e una cosa sono, diciamo, i risultati pratici. I risultati pratici sono che essenzialmente noi, noi italiani, siamo chiusi in cluster, che non sono raggruppamenti di pensiero, sono raggruppamenti di interessi. Se vogliamo vincere questi interessi, a un certo momento possiamo procedere, diciamo, attraverso concrete dimostrazioni di vendita, che quegli interessi dominano e a un certo momento danno un vantaggio a tutti. Però è un lavoro lentissimo e non corrispondente ai dati di un sondaggio che, diciamo, approva, esattamente come approva Piero Angela, approva i cambiamenti, l'opinione pubblica approva i cambiamenti, approva le energy community. Per esempio, forse questa è l'unica cosa che potrei dirvi, perché i numeri sono noiosi. Del resto, direi, nella mia memoria, Realacci, che è qui presente, non è per i numeri che ha portato a un convegno a cui ho assistito come partecipante, ma è espressioni di ammirazione e, se vogliamo, di volontà di cambiare, di Bob Kennedy. Ricordi l'episodio? Io lo ricordo, l'ho stampato nella mia memoria e ti ringrazio perché parecchie volte l'ho utilizzato nella mia vita per animare i collaboratori. Magari ne parli tu, quando è il tuo turno. Ora, per quello che riguarda l'essenziale di questa ricerca, esistono tre proposte. Noi abbiamo sottoposto a test tre proposte. Queste tre proposte sono la energy community nel campus universitario. Cosa ne dici, o italiano medio, di fare delle comunità energetiche per quello che riguarda i campus universitari? Il 40% è favorevole. Cosa ne dici di una gestione ottimizzata e di un monitoraggio di un singolo quartiere? Per esempio, fare una energy community che riguarda Via Ripamonti ed intorni, visto che io abito in Via Ripamonti. E qua abbiamo il 29% di approvazione e di interesse per questo. E poi abbiamo un ulteriore dato, una prima comunità integrata ecosostenibile, una lift community. Cosa ne dici di partecipare a una lift community? E abbiamo il 25%. Queste cifre, in funzione delle esperienze precedenti, diciamo che è l'ultimo slide, quello che ho illustrato, il penultimo, prima del campione intervistato. Cosa ne dici? E a questo punto noi abbiamo tre cifre. tenderei a partecipare attivamente per il 40% se la comunità è qualche cosa che riguarda i miei figli. Tenderei a partecipare attivamente, nel 29% dei casi, per una gestione ottimizzata e un monitoraggio di un singolo quartiere, di Via Ripamonti. E tenderei a una comunità integrata in cui c'è una maggior partecipazione dei membri della comunità a livello del 25%. Queste tre cifre, in numerica famiglie, che cosa sono? 40% significa 10 milioni di famiglie. 29% significa 7 milioni di famiglie. 25% significa 6 milioni di famiglie. Non è poco, perché la totalità delle famiglie italiane, come sapete, è 25 milioni e noi siamo una grande comunità. Ma il problema è il risveglio di questa comunità. Come risvegliarla? Tocca alle DF o tocca agli organi pubblici compiere questo miracolo. Grazie mille. Anche per il fatto che ci ha fatto recuperare diciamo del tempo. Ora abbiamo un... Intanto ringraziamo tutti gli intervenuti e abbiamo un intervallo un po' più breve rispetto a quanto era previsto. 11,30 tassativamente bisogna tornare tutti al proprio posto. Grazie ancora.